Allora, finalmente eccoci qua, Gears of War 3, Epic Edition, il pacco è enorme, credevo mi avessero consegnato la console, e invece questo qui praticamente è il box di Gears of War 3, Epic Edition. Vedete bene? Ho resistito per tutta la giornata all'ora a non aprirlo, solo per fare l'unboxing, dedicato a Yitsu, che mi sente finalmente parlare, e comunque, mi sono stati regalati 400 Microsoft Points da GameStation per aver fatto l'acquisto, e questo è un personaggio in più per online, da usare per online, ed è un Savage Grenadier Elite, praticamente un bombarolo, e adesso procediamo con l'unboxing. Ok, come vedete i sigili sono intatti, ho resistito, amatemi per questo. Scusate il silenzio, dopo commenterò il contenuto della scatola. Ok, uno, due, tre, quattro, allora la prima cosa che si vede, questa è la, ok, questa è la placca di metallo di Adam Fenix, l'ingranaggio. Per adesso la lascio chiusa, poi dopo la apro, la faccio vedere. questo è l'upbook, che poi apro, quindi le prime due cose ad uscire sono queste due. Poi quel polistirolo, quello grande qui, che come potete vedere, nerdata galattica, simbolo dei COG, sul polistirolo, quindi non è un polistirolo anonimo. Lo levo. Aha! E qui, come potete vedere, c'è la statua incartata, e dentro, tiro fuori lo sfondo, che devo tagliare. Credo che questo sia fatto apposta, per posizionarci la statua davanti, precisamente qui in mezzo, praticamente al centro del gruppo di personaggi. suppongo che sia per questo panoramico. Adesso tiro fuori la statua, prima che muore soffocato. Adore di gomma. Ecco qua, Marcus Fenix, non posso dire in tutta la sua bellezza, perché non è che sia proprio fine. Ok. Da notare il dettaglio incredibile, addirittura si vede l'interno dell'orologio. Non so se si riesce a riprendere. Addirittura il lancetto, il quadrante delle lancette dell'orologio. Mai vista tanta cura nei particolari. Insieme alla statua, ovviamente, c'è il lancer, che non è proprio all'altezza di quello di Ice-T, ma questo qua è una lagnatura del lancer, e che in teoria va posizionato qua. Incastrato in qualche modo così. Ok. Vediamo cos'altro. Niente. Bene. A questo punto, se il gioco non è qui dentro, mi hanno fregato. Comunque. Abbiamo dato la mano questo. Ok. che lo sia calamitato. Ok, perfetto. Allora, nel fondo della confezione c'è il gioco. Basta eccolo. Tirare la linguetta, suppongo, e viene via. Il gioco. Che replica praticamente il design degli harddisk estraibili di Gears of War. Scusate, Lapsos, stavo per dire God of War. E dentro chiaramente c'è il disco originale. Poi, apriamo di nuovo. Bandiera. In teoria dovrebbe essere una bandiera, ma credo che abbia più le dimensioni di un tovagliolo. Un po' di spiego. Fotografia di Adam Fenix con dedica. Triste che vende lino orizzontale. e into